Questo significa che i litigi in maggioranza continuano, significa quello che dicevo prima che l'unico collante è quello di rimanere al potere, ma è un collante potentissimo per cui questo non significa che cadrà il governo sulla prescrizione. Volevo però dire una battuta sul discorso che si sta facendo un attimo fa. Io dico solo che secondo me questa cosa dell'odio è diventata uno slogan. Dire che nell'assegnazione delle case popolari ci sono dei problemi non è odio, è la realtà. Dire che, a parte il fenomeno calabrese è ulteriormente inquinato, viene detto che vengono tante le case di italiani. Dalla gestione, in un minuto ce la faccio. Senza essere interrotto, facciamo finire De Manzoni, Claudia. Dico semplicemente che mettere il dito nella piaga di un sistema di assegnazione degli alloggi popolari che per esempio a Roma privilegia i Rom in maniera vergognosa rispetto a tutti gli altri, compresi gli altri stranieri, non è odio, è semplicemente denunciare che c'è un problema. Se il 75% delle case popolari di Milano vanno a degli stranieri c'è un problema o comunque c'è un problema per gli italiani che non riescono ad accedere a questo servizio. Fratoianni, io segnalo semplicemente che molti dei Rom sono italiani. Fratoianni.